Buongiorno, sono Alberto Dossi, imprenditore e vicepresidente di Asso Lombarda. Con il gruppo tecnico dedicato alle politiche industriali e all'impresa 4.0 vogliamo contribuire alla diffusione delle opportunità legate alla trasformazione digitale. Attraverso alcune videopillole vi presentiamo le tecnologie dell'impresa 4.0 e i loro impatti reali con testimonianze di imprenditori e manager. Con questa e numerose altre iniziative Asso Lombarda supporta la transizione digitale delle nostre imprese. Per ogni necessità o approfondimento vi invito a contattare la nostra struttura. Grazie a tutti e buona visione. Nel contesto manufatturiero la prima attività che si può cominciare a sviluppare in realtà aumentale è sicuramente la manualistica e la manutenzione dei propri macchinari. Successivamente si può pensare a informatizzare le schede di lavoro dei prodotti che andiamo a produrre. Abbiamo applicato realtà aumentata nell'ambito di presse e macchine semiautomatiche con l'obiettivo di misurare in continuo l'anamento della fabbrica e nel caso di fermi macchina avere a disposizione rapidamente i dati e le informazioni per poter reattivare quanto prima i macchinari stessi. Che cosa si intende per realtà aumentata? Per realtà aumentata si intende un arricchimento delle percezioni umane grazie a elaborazioni digitali che consentono di ottenere informazioni che non possono altrimenti essere ottenute solo facendo uso dei cinque sensi. Enormi masse di dati e di analitiche vengono trasformate in immagini o animazioni sovrapposte al mondo reale. Le informazioni possono essere visualizzate su diversi devices come schermi, occhiali, telefoni cellulari, caschi, wearable. Ma ci sono anche applicazioni che le proiettano direttamente sulla retina dell'occhio umano. Esistono almeno quattro tipi di realtà aumentata. Al riconoscimento di immagine viene attivata da un oggetto specifico inquadrato da una telecamera. Al riconoscimento di posizione utilizza GPS, compassi digitali, giroscopi e accelerometri per fornire informazioni relative al luogo in cui si trova l'utente. Projection based, caratterizzata dalla proiezione di luce sintetica su una superficie fisica. Superimposition based, che sostituisce la vista dell'ambiente originale con una aumentata. Per realtà aumentata si intende la capacità di avere informazioni aggiuntive traguardando la realtà che ci circonda, utilizzando opportuni device wearable che sono caschi, piuttosto che non occhiali, piuttosto che non iPad, smartphone e così via. Questo aumento di informazioni viene fruito attraverso l'inquadramento di opportuni dettagli, che possono essere fotografie, piuttosto che disegni, piuttosto che non tag o quant'altro, e attraverso l'inquadramento di questa realtà si rimanda a delle informazioni che vengono proiettate direttamente sulla device che stiamo utilizzando in questo momento. Cosa è già possibile fare? In combinazione con i dati IoT, le applicazioni di realtà aumentata stanno portando numerose aziende a ridefinire completamente il modo in cui progettano, producono, vendono, gestiscono e supportano i prodotti. Nelle imprese manifatturiere, la realtà aumentata viene utilizzata nella progettazione di macchine complesse, nell'assemblaggio, nel training, nel controllo qualità e soprattutto nella manutenzione. E in futuro? Probabilmente le tecnologie di realtà aumentata si integreranno con quelle di realtà virtuale, dando vita a quella che viene definita realtà mista. Le tecnologie AR e VR consentiranno di visionare il prodotto nelle fasi di design, in scala reale e con interazioni naturali, prima che venga realizzato anche solo un prototipo fisico. Questo permetterà di ottimizzare le fasi di progettazione, anticipare le problematiche relative all'oggetto e ridurre così l'impatto sui costi di sviluppo del prodotto. La realtà aumentata è una tecnologia potente di visualizzazione dei contenuti digitali. Nell'immediato futuro sarà possibile quindi utilizzarla proficuamente nello sviluppo di prodotti innovativi, anche sovrapponendo nuove parti e nuovi contenuti a parti preesistenti. Sarà inoltre altresì possibile visualizzare direttamente sul prodotto in via di realizzazione i risultati di simulazioni numeriche che permetteranno di ottimizzarne il comportamento sia dal punto di vista fluido-dinamico che strutturale, che del comportamento generale in determinate condizioni di funzionalità. Quali competenze sono necessarie per sviluppare soluzioni in realtà aumentata? Oltre alle cosiddette soft skill, per sviluppare soluzioni in realtà aumentata diventano centrali alcune competenze tecniche. Ingegneria del software, linguaggi di programmazione, modellazione tridimensionale, progettazione di user experiences. Lo sviluppo dell'alta aumentata prevede una conoscenza di base informatica e la capacità di personalizzare e settare dei software dati programmati da altri. Per quanto riguarda la capacità di utilizzo dell'alta aumentata, è richiesto al personale di avere una facilità di navigare all'interno degli attuali dispositivi, di tablet o di smartphone, in modo tale da riuscire a raggiungere rapidamente le informazioni e a scegliere i scenari più adatti. Per sviluppare sistemi di realtà aumentata, le competenze principali sono quelle legate all'informatica, alla modellazione 3D, alla user experience e user interface per un posizionamento corretto degli oggetti all'interno degli spazi. Abbiamo visto negli anni che le aziende che maggiormente aiutano in questo tipo di attività sono quelle che oggi sviluppano gaming.